Questo è il mese dedicato a Dio Padre, 17 agosto, l'amore di Dio nella giustizia. Introduzione Molti uomini, anche tra i cristiani, anche tra quelli che si professano atei o indifferenti, ancora oggi paventano Dio come giudice severo e inesorabile, e per così dire automatico, pronto a colpire prima o poi, l'uomo che ha commesso certi sbali. Non sono pochi quelli che oggi pensano, con scettismo o con angoscia, che il male fatto rimane e che il perdono, ricevuto nel confessionale o nella coscienza, non cambia nulla. È un semplice conforto e sfogo da alienato. Simili concezioni sono ingiuriose per Dio e non fanno onore alla intelligenza dell'uomo. Proprio quando nelle pagine dell'Antico Testamento Dio per bocca dei profeti minaccia o infligge terribili castighi, proclama anche alto e rassicurante. Io sono Dio e non uomo. Io sono il Santo e non amo distruggere. E quando, anche nel Nuovo Testamento, due apostoli crederanno di interpretare una reazione di Gesù, invocando fuoco dal cielo su un villaggio che l'aveva rifiutato, Gesù risponde deciso e a monitore. Non sapete di che spirito siete. Il figlio dell'uomo è venuto non per prendere le anime, ma per salvarle. La giustizia di Dio quando giudica, assolve. Quando castiga, purifica e guarisce. Quando corregge, salva. Perché la giustizia di Dio è amore. Meditazione Biblica La parola del Signore fu rivolta a Giona, una seconda volta, dicendo Alzati, e va a Ninive, la grande città, e annunzi a loro quanto io ti dirò. Giona si alzò, e se ne andò a Ninive, e predicava dicendo Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno e vestirono il cilizio dal più grande fino al più piccolo di loro. Poi fu proclamato in Ninive un decreto. Ognuno si converta dalla sua malvagia condota e dalla iniquità che è nelle sue mani. Chissà, forse Dio potrebbe cambiarsi e ripentirsi, distogliere l'ardore della sua ira e non farci perire. E i Dio vide le loro opere. Si pentì del male che aveva detto di fare, e non lo fece. Ma ciò fu per Giona di grande tristezza, e ne rimase indignato. Giona uscì dalla città, si fece un riparo di fraschie, e ci si mise sotto all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. E il Signore i Dio fece spuntare una pianta di ricino, per far ombra sulla testa di Giona. E Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, Dio fece venire un verme, a rodere il ricino, e questo secò. E quando il sole si fu levato, il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno, e chiese di morire. E il Dio chiese a Giona, Ti sembra bene essere così sdegnato per una pianta di ricino? Tu senti compassione per quella pianta di ricino, per cui non ti sei per niente affaticato. Ed io non dovrei aver pietà di Ninive, nella quale più di centoventimila creature umane non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra. Conclusione Chi di noi non si sorprende talvolta con i sentimenti di Giona? Spesso ci vogliamo attenere a una decisione dura, anche quando qualcosa è cambiato, a favore del nostro fratello. Il nostro senso di giustizia è spesso una sottile vendetta, una legittima barbarie civile, e il nostro giudizio che vuole essere netto è un freddo fil di spada. Siamo imitatori di Dio. La giustizia deve essere una forma di amore, per capire. Per aiutare, per correggere, per salvare, non per condannare, per far scontare, per allontanare. Preghiamo Preghiamo Per tutte le meravigliose bellezze della natura, che ci incantano e ci alietano. Ti ringrazio, oh Signore. Per la vita che ci hai donato, per i giorni che ci concedi, per l'amore, l'amicizia e la compagnia che ci fai godere nella nostra casa e nel mondo. Ti ringrazio, oh Signore. Per le piante e gli animali che continui a creare per noi, per il sole, la luna e le stele, per le sorgenti e le pianture, per le montagne e i mari che conservi e rinnovi per noi. Ti ringrazio, oh Signore. Per l'intelligenza, i sensi e il cuore che ci hai dato, per comprendere, godere, amare e rispettare la tua creazione e te, somo bene. Ti ringrazio, oh Signore. Per tutte le nostre intenzioni. Si esprimono le intenzioni? Ti ringraziamo, oh Signore. Preghiera di conclusione. Dio, nostro Padre, che a noi e a ogni generazione di uomini, fai trovare questa eredità ricca e meravigliosa del tuo creato. Mentre accogliamo ogni bene come segno del tuo amore, ti ringraziamo con tutta l'anima e ti preghiamo di formarci un cuore pronto e generoso verso i fratelli più bisognosi. Te lo chiediamo per il cuore di Cristo, tuo Figlio. Amen. Grazie. 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 Grazie.